Al via, al finale 5.000... Sali Luca! Passaggio di meno di 4.000... Ma era impossibile... Lui andava di brutto, capito? Non è che poteva darla sul piare Sul passaggio, campana, e dal prossimo giro E' Luca! Attento! Non puoi, poi? Ecco, lo vuoi E non è fatto al giro Sul passaggio, di meno del giro No, quello è davanti Osti, no, 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 scusa Scusa, sono qua Tu dovevi salire Perché se lì salì, non pare di me Stavi nel brusso, non davanti Non li ha portati là un giro Vai, vai, tranquillo Esatto, passava l'ordine Vai Luca! Allora! 46, 545 B entity dalla Br Uzbek, alla Bralla Bulli Almeno c'è nota Vene quanto sale? Reggio! Bello! Vane quanto sai? Ma soli! 125 e 160 40 a 6, 5 cento, 45 in passaggio di meno di a 7 5, 5 cento, 55 in passaggio di meno di a 7 5, 5 cento, 55 in passaggio di meno di a 7 5, 5, 5 cento, 55 in passaggio di meno di a 7 5, 5 cento, 55 in passaggio di meno di a 7 523.210 su un passaggio di meno veloce Luca! 523.210 su un passaggio di meno veloce 523.210 su un passaggio di meno veloce 525.210 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 su un passaggio di meno veloce 625.210 su un passaggio di meno veloce 625.210 su un passaggio di meno veloce 625.210 su un passaggio di meno veloce